Ma io quando leggo i giornali la mattina mi diverto tantissimo perché mi accorgo di aver pensato cose che neanche io ho pensato di pensare. Non c'è ancora in agenda un incontro con Berlusconi, non stiamo pensando a partiti unici e che cosa gli dirò lo penserò quando avremo fissato l'incontro in agenda. Parleremo delle elezioni amministrative evidentemente perché almeno quelle Renzi non le può posticipare. E quindi il fatto che si voti a Milano, a Torino, a Bologna, a Varese, a Napoli e auspicabilmente a Roma visto che mi sembra che la storia della città non abbia mai avuto il Papa che smentisce il sindaco. Non so cos'altro debba succedere per andare a votare a Roma. Quindi concordare candidati condivisi laddove possibile per le elezioni amministrative e poi preparare un'alleanza, se possibile, per mandare a Casa Renzi. Però non c'è ancora nulla di fissato.